Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Photo Discovering. Oggi parleremo del fotografo giapponese Nobuyoshi Araki. Nobuyoshi Araki nasce a Tokyo nel 25 maggio del 1940 e diviene noto principalmente per le sue opere di carattere erotico. Senza dubbio si può considerare un fotografo prolifico, fra i più prolifici nella storia della fotografia, essendo l'autore di ben 350 libri e migliaia migliaia di fotografie. Parlando del pensiero di Araki è palese che il suo stile di vita sia stato dettato dalla fotografia, utilizzata come mezzo e linguaggio per raccontare le sue esperienze e le sue emozioni. Quindi parliamo di nuovo di un fotografo autobiografico che utilizza la fotografia per parlare di se stesso attraverso le immagini di altri soggetti. Araki all'età di 12 anni ricevette una macchina fotografica da suo padre e da qui inizia il suo percorso. Nel 1963 si laureò in fotografia e cinema presso il dipartimento di ingegneria all'università di Shiba. In seguito lavorò per 9 anni nel campo della fotografia commerciale con la società di pubblicità Dentsu. Durante questo periodo riuscì a portare avanti anche i suoi progetti personali. Nel 1964 ricevette il premio Taiyo per Sachin, una serie di fotografie realizzate in bianco e nero con i bambini del centro di Tokyo, il cui titolo deriva dal nomignolo di una di queste bambine. Queste opere vennero anche esposte nel 1965 durante la sua prima mostra. Nel 1970 creò il suo primo album fotografico Xerox che venne prodotto in edizione limitata. Lo inviò ad alcuni dei suoi amici ma anche a critici d'arte e a tante altre persone scelte a caso dalla rubrica telefonica. Nel 1971 pubblicò una raccolta di stampe private, Sentimental Journey, nelle quali riportava come se fosse un diario la sua vita privata. In particolare il suo matrimonio e la luna di miele con la sposa Yoko Aoki. Ma come spesso accade per fotografie con una certa rilevanza storica, queste risultano in realtà progettate nei minimi particolari. È il 1972 quando decide di abbandonare la società Densu per diventare un fotografo freelance. Da quel momento quasi tutte le sue opere ruotano attorno alla sua vita e alle donne che gli sono accanto. Stilisticamente Araki non si considera e non ostenta la figura del fotografo purista. Lavora sia in bianco e nero che con il colore, utilizzando chibacrom ma anche fotocopie a colori, sfruttando al massimo la loro evidente artificialità. Per quanto riguarda la luce, utilizza sia quella naturale che quella del flash. Nel tempo il fotografo ha saputo sperimentare varie tecniche per comunicare il suo pensiero, fra cui il collage, il fotomontaggio, la solarizzazione e il colore applicato a mano, anche con la vernice. E non sempre in fase di post-produzione, ma anche in fase di progettazione, ponendo spesso la vernice direttamente sulla vagina della sua modella. Sempre parlando della sua continua ricerca e sperimentazione, anche i negativi venivano trattati e volutamente danneggiati, provocando così graffi sull'emulsione delle stampe finite. Per produrre la sua fotografia, Araki utilizza spesso una Pentax 6x7, ma fotografa spesso anche facendo uso di istantanee. E le location non trovano una sua preferenza definita, andando dallo studio a ritratti e scene in strada. Nature morte e pornografia hardcore. Fotografa senza alcuna remora i soggetti più disparati, dal cibo per gatti ai corpi femminili. Ci sono molti elementi paradossali nella sua fotografia e nessunissima pretesa di verità fotografica. Appare lui stesso molto spesso come soggetto in scene di sesso. Ricordate Terry Richardson? Una delle sue immagini più evocative e più conosciute è un autoritratto dove indossa un mantello color rosa. Mantello appartenuto alla moglie recentemente scomparsa, afferrando con una mano un ritratto di lei in bianco e nero. Ora c'è un concetto che vorrei introdurre prima di andare avanti. Quando la fotografia diviene autoriale è improbabile, anzi direi impossibile, non trovare in essa una forma più o meno palese di autobiografia. Questo accade anche nelle fotografie di Araki e nel suo spesso difficile rapporto con il sesso femminile. Infatti, attraverso la progettazione e la realizzazione delle sue immagini, Araki tenta di divenire sempre più intimo con le donne. C'è una continua e instancabile ricerca di bilanciare il supplime e lo sceno. Senza dubbio la censura specie in Giappone ha messo sempre in cattiva luce il fotografo, facendo così diminuire molto spesso la sua influenza sui trend fotografici a livello mondiale. In alcune delle sue serie troviamo immagini di donne imbavagliate e legate che indossano l'abito tradizionale del kimono. Senza dubbio la sua fotografia trova ispirazione nella storia e nella tradizione dell'arte erotica giapponese. Soprattutto nello Shunga, il dipinto erotico del periodo Edo. Possiamo quindi affermare che Nobuyoshi Araki sia un precursore ma anche un attento discepolo e che la sua fotografia sia un mix tra il verismo e la fotografia pittoriale, intesa come bagaglio culturale ma non tecnico. Altri soggetti preferiti sono stati i fiori presenti in molti dei suoi progetti degli anni novanta. Questi vengono spesso fusi in dei concetti che vanno dal sesso alla morte, entrando molto spesso nel vero senso della parola nel concetto di organo riproduttivo che entra all'interno di un altro organo riproduttivo, quello femminile. Araki ha saputo descrivere con un ossessivo interesse la città di Tokyo, specie nelle aree urbane, da lui frequentate e conosciute molto bene. Locali notturni, striptease e alberghi squallidi. Persone sole e tristi immerse nei contesti della sua Tokyo. Araki sostiene che La fotografia è sinonimo di ciò che si riferisce a me. Non vado da qualche parte solo per scattare fotografie. Nel 2002 la casa editrice tedesca Tusken pubblicò un tributo al suo lavoro, un enorme libro con mille immagini, con una tiratura di 2500 esemplari. Nel 2003 il fotografo pubblicò Araki by Araki, The Photographer's Personal Selection, dal 1963 al 2002, la più completa raccolta del suo lavoro con immagini suddivise per ogni anno. Nel 2005 il regista Travis Close ha realizzato un documentario sulla sua fotografia dal titolo Araki Mentari. Molti dei suoi lavori sono conservati ad oggi in numerosissimi musei, tra cui la Tate e il San Francisco Museum of Modern Art. Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Conoscevate il fotografo Nobuyoshi Araki? Approfondirete il suo pensiero fotografico? Volete proporre altri fotografi di cui parlare? Scrivetelo qua sotto con un commento al video. Se questa puntata di Photo Discovery vi è piaciuta mettete un like e condividete. Aiutate a farci conoscere. Grazie e alla prossima puntata di Photo Discovery Grazie a tutti! Grazie a tutti!